Felicità è incontrare il Napoli per Mattia Caldara perché nella gara di andata hai fatto il tuo esordio in Serie A e l'Atalanta ha dato la svolta al suo campionato. Arrivi a Napoli e segni la tua prima doppietta in Serie A. No, è incredibile, ancora non ci credo perché è davvero venire qui e fare una partita così importante di squadra era il nostro obiettivo però sapevamo che non era facile e siamo riusciti addirittura a vincere quindi siamo felicissimi. Un San Paolo che insomma era bello pieno, si facevano sentire i tifosi e voi non avete subito neppure questo. Sì, era bello pieno, si sentivano i fischi, si sentiva tutto però noi siamo rimasti compatti, siamo rimasti concentrati sapevamo che dovevamo soffrire e quindi siamo stati sempre comunque concentrati per cercare di portare fuori il risultato e siamo riusciti a farlo. Ecco, una partita di quelle belle da incorniciare che ricorderà nella memoria di tutti quelli che l'hanno vista dal vivo oppure anche da casa e questa Atalanta non si ferma? Noi non vogliamo fermarci, faremo di tutto per cercare di continuare a vincere, sappiamo che non è facile perché il campionato è di livello alto e quindi dobbiamo allenarci sempre al massimo, cercare di migliorarci ancora che abbiamo ancora molti margini di miglioramento e vediamo la fine. Col primo gol hai rotto il ghiaccio ma col secondo in inferiorità numerica che soddisfazione è stata? Il secondo gol, davvero io non so perché ero là, mi sono filato di spina che sapevo che la portava fino in fondo e dopo devo ringraziarlo perché ha messo una grandissima palla e quindi davvero sono contento.